ah oh sei messo proprio male eccomi ciao che ti è successo no non vi preoccupate sto bene sto bene il fatto è che ho avuto un piccolo incidente una caduta e ora sono così ma sono molto contento davvero sono molto contento perché grazie a questa caduta ho scoperto beh qualcosa che già sapevo ma una cosa è saperlo e un'altra è viverla ho scoperto come sono meravigliosi gli ospedali e le farmacie cioè non amiamo andare all'ospedale però quando siamo malati come ringraziamo che ci siano ospedali e che ci siano persone che ci curano infermieri medici per cui sono molto contento perché oltretutto volevo dirvi che gesù è medico è medicina e ha voluto creare un ospedale meraviglioso che si chiama la chiesa la chiesa è l'ospedale che gesù ha creato per curare le ferite dell'anima e dov'è questo ospedale beh lo potete trovare da tutte le parti anche se ha avuto inizio a gerusalemme gesù era salito al cielo e ha detto ai suoi apostoli che erano i suoi migliori amici aspettatemi e pregate perché vi invierò lo spirito santo un giorno si misero a pregare e sapete che è successo che è successo all'improvviso iniziò a soffiare un vento fortissimo poi videro sulle proprie teste alcune piccole lingue di fuoco e infine lo spirito santo entrò in loro perché è questa la medicina di dio è dio stesso che si mette nella nostra anima per curarla nell'ospedale di gesù cristo che è la chiesa nessuno si cura da solo con le proprie forze ma siamo guariti dall'azione di dio dentro le nostre anime una bellissima domanda tutti possiamo entrare nella chiesa di dio perché perché l'amore di dio è incondizionato molto bene vi ricordate molto bene ma c'era anche un'altra parola l'amore di dio è incondizionato di nuovo a questa parola non ve la ricordate universale significa che dio ama tutti ed è per questo che non ha creato una chiesa solo per pochi o per alcuni o per un po di gente ma è per tutti tutte le medicine che dio distribuisce attraverso la chiesa sono per tutti i suoi figli e le sue figlie e che medicina sono un'altra bella domanda e ti rispondo le medicine di dio che ci dona attraverso la chiesa sono i sette sacramenti vi ricordate no il battesimo era il primo è come un vaccino che ci viene fatto all'inizio che facciamo una volta nella vita e poi riceviamo nuove medicine per tutta la nostra vita in funzione dei bisogni di ogni malato e quanti medici ci sono un'altra bellissima domanda oggi state facendo delle domande stupende nella chiesa c'è solamente un medico solo uno sì gesù cristo ma lui adora lavorare in squadra e a noi che siamo i malati dell'ospedale chiede di essere suoi collaboratori e fra tutti i malati dell'ospedale ne ha nominato uno che è il capo squadra questo capitano lo chiamiamo il papa il primo capitano della chiesa il primo papa si chiamava pietro san pietro che era molto amico di gesù e dopo san pietro ci sono stati moltissimi papi che si chiamavano lino cleto evaristo telesforo eleuterio zeferino uno addirittura si chiamava eutichiano poi melchiade giovanni paolo secondo benedetto fino ad arrivare al papa di oggi sapete come si chiama il papa che abbiamo adesso nella chiesa francesco molto bene francesco papa francesco chiede molto spesso pregate per me pregate per me e noi se vogliamo aiutare il nostro capitano dobbiamo pregare per lui e non solo pregare dobbiamo anche ascoltarlo e obbedirgli perché questo è ciò che vuole gesù cristo per questo l'ha nominato capitano per obbedirgli alcune persone dentro la chiesa si dedicano a criticare il papa e perché si considerano più svegli di lui o migliori e pensano se gesù avesse messo me io sarei un capitano migliore e quindi con questo atteggiamento l'unico risultato è dividere la chiesa dall'interno certo e frenare lo spirito santo e questo sì che è triste molto triste sì noi vogliamo essere dei buoni malati di questo ospedale per questo vogliamo lasciarci aiutare e vogliamo provare ad aiutare anche gli altri preghiamo per il papa e per tutti i sacerdoti ringraziamoli perché dedicano la loro vita a servirci dandoci le medicine per l'anima e vogliamo essere anche apostoli sapete che vuol dire quelli dell'aposta no siamo apostoli se annunciamo al mondo intero che dio è nostro padre che è nostro fratello che è nostro amico che è il nostro medico ed è la nostra medicina questa sì che è una buona notizia puoi dirlo forte è una buona notizia puoi dirlo molto è una buona notizia puoi dirlo che è molto più difficile è una buona notizia puoi dirlo